E' la Fontana degli Macrobri, propieta da Pietro Berbini nel 1600. Però ora chiamiamo Fontana degli Innamoranti. Perché? Vuole un'antica leggenda del Fontana. Accettandovi una fontina di innamoranti accarti da una forza inesistibile, tornando qui, si ritrovano e restano insieme per sempre. Beh, io non ci credo, però la collettina la conto lo stesso. A presto! Grazie a tutti. Grazie a tutti.